benvenuti spettatori di le fonti tv a questa nuova puntata di new insurance il nostro format dedicato al settore assicurativo dove cercheremo di analizzare le tendenze del presente soprattutto del futuro ecco noi ci proiettiamo verso la nuova era dell'assicurazione che vediamo e percepiamo così come potete leggere dalla strap dal titolo della nostra trasmissione ovvero sempre più digitale sempre più personalizzata ne parleremo con gli ospiti che sono qui con me in studio ovvero il dottor marco donne chief marketing and distribution officer general italia benvenuto buongiorno e la dottoressa anna maria arcese regional vice president salesforce italia e capo del settore banking ed insurance benvenuta anche a lei buongiorno a tutti grazie bene allora abbiamo detto insomma già alcune parole chiavi innanzitutto ecco il futuro un futuro sempre più digitale che influisce anche nel modo di rapportarsi tra la compagnia assicurativa e il cliente qui mi rivolgo al dottor oddone non c'è più insomma una sola modalità eravamo abituati fino a qualche decennio fa semplicemente al face to face invece adesso si moltiplicano proprio i canali ecco di comunicazione tra i vari protagonisti del settore assicurativo tanto che è diventato centrale il concetto di omnicanalità voi in generale in generale come lo lo vivete ma intanto devo dire che gli anni che ci siamo lasciati da poco dietro le spalle faccio riferimento in particolare al periodo covid hanno fatto fare a tutto il settore ma anche come esperienza anche per sia come operatori che come utenti quindi clienti un salto in avanti molto molto importante non c'era più e sparita quella che relazionalmente per noi era la l'unica modalità importante che era quindi il face to face che ha nominato nella relazione con i clienti e improvvisamente ci siamo trovati remotizzati e ma per fortuna digitali e lì abbiamo imparato tanto abbiamo fatto un salto direi quanti abbiamo fatto un crash di tempo di esperienza per poter far sì che anche qua non si potesse perdere relazione attraverso proprio gli strumenti digitali è stata un'esperienza importante devo dire che anche quella da responsabile commerciale anche per me che dove la relazione la presenza la vicinanza con la rete stessa era una modalità proprio quella face to face e quindi trovare le occasioni per essere insieme abbiamo dovuto imparare imparare a stare in uno studio a fare streaming così come i nostri operatori nostri agenti i nostri consulenti sul territorio hanno dovuto anche lì far leva su quella che erano le loro competenze digitali che già avevano ma potenziarle anche con una relazione a distanza con le videochiamate con tutto quello che poi era la possibilità di lavorare da remoto in quel periodo devo dire che però anche tutto il tema della digitalizzazione è un asse fondamentale anche del nostro piano strategico per cui il tema dell'omnicanalità ad esempio quindi la possibilità di avere una relazione ibrida con il cliente che non sia fatta soltanto in presenza ma che sia anche che faccia leva anche sulle possibilità di di contatto in remoto l'utilizzo di applicativi di consultazione del sito oggi sta diventando un tema molto rotondo molto rotondo e quindi molto importante anche per la per la compagnia ma anche per la rete per la rete commerciale stessa e assieme a quello che poi il tema dell'utilizzo dei dati quindi apro un po di parentesi si si che approfondiremo poi perché ha toccato insomma due o tre punti che sono davvero importanti certo ecco e ci torneremo su anche perché possiamo dire che un po anche le compagnie assicurative con questa esplosione del digitale sono dovute tornare a scuola in un certo senso e apprendere delle competenze che prima non erano richieste creare anche un nuovo clima di fiducia con il cliente attraverso dei nuovi mezzi nuovi mezzi digitali e qui passo la parola alla dottoressa arcese che come accennava il dottor rondone ci hanno permesso hanno consentito di raccogliere una grande quantità di dati molto superiore rispetto al passato e questo sicuramente ha favorito le compagnie assicurative nel mettere a punto nel perfezionare dei prodotti e delle soluzioni tailor made sempre più vicine alle esigenze del cliente ecco dal vostro punto di vista da quello di salesforce quali sono le strategie le soluzioni che proponete per aiutare con le compagnie in questo processo? Sì ecco diciamo che le compagnie assicurative stanno vivendo un momento di grande trasformazione come diceva dottor rordone anche grazie tra virgolette a questa pandemia ma non soltanto diciamo che tutti gli utenti dei sistemi sia interni alle compagnie quindi agenti piuttosto che diciamo il personale interno e i clienti sia consumatori che diciamo dall'EB2B hanno sviluppato una tendenza a essere sempre più digitali quindi il mondo richiede questo livello di diciamo avvicinamento avvicinamento alle persone avvicinamento a un profilo servizio prodotto sempre più personalizzato e quindi questa diciamo raccolta di dati informazioni in modalità omnicanale che non è soltanto creo il mio sito web piuttosto che un content center evoluto ho la capacità di saper gestire questi dati all'interno di tutta questa catena del valore e quindi la piattaforma che meglio si adatta a queste soluzioni riesce a dare a fornire un valore in più alla compagnia che ha bisogno di avvicinarsi di poter offrire queste soluzioni ai propri clienti quindi noi come Salesforce abbiamo creato questa opportunità di gestione dell'omnicanalità facendo sì che l'esperienza del cliente dell'utente all'interno della compagnia sia come chiamiamo i seamless cioè quindi non si avverte nessuna separazione tra quello che è un mondo fisico un modo digitale qualunque esso sia questo grande momento ha creato la capacità di saper raccogliere informazioni da qualunque canale queste informazioni la compagnia le usa davvero oggi ancora meglio di prima riuscendo a offrire soluzioni personalizzate ma campagne per il raggiungimento di questi clienti in maniera più diretta quando il cliente ne ha più bisogno e questa è la differenza sostanziale avere un prodotto una soluzione nel momento più giusto del bisogno del cliente questo fa aumentare tantissimo il valore del cliente certo ecco intercettare i bisogni e le esigenze di un cliente che oltre ad essere sempre più digitale e digitalizzato ha dei bisogni ecco ben definiti sempre meglio meglio definiti io tornerei ecco sui tre protagonisti del settore assicurativo io li ho chiamati un po ecco i tre vertici di questo ipotetico triangolo ovvero le compagnie da una parte i clienti dall'altra e poi gli intermediari gli agenti anche qui rispetto al passato c'è stata una bella evoluzione perché l'intermediario non è più semplicemente un venditore ma è un consulente a tutti gli effetti che deve essere in grado di stabilire un nuovo rapporto di fiducia con con il cliente e quindi ecco è interessante vedere come si ampia un po un po la rete come viene gestita come vengono gestite le relazioni tra questi tre protagonisti la parola ancora al dottor oddone intanto spendo ancora una parola sul tema della compagnia perché prima di tutto le compagnie in questo ecosistema come è stato ben descritto abbiamo bisogno di investire tantissimo su nuove competenze e questo devo dire che anche negli anni passati è stato un mantra all'interno per esempio di generali dove sono stati creati proprio dei team specializzati proprio nella nella gestione nella nella raccolta nell'analisi dei dati nella messa a disposizione di questi dati per per la rete commerciale cultura del dato che deve essere anche oggi un patrimonio assolutamente importante della rete commerciale stessa e anche la cura e la raccolta del dato stesso che non è un semplice atto amministrativo oggi ma è un contributo importante a una conoscenza proprio del del cliente stesso quindi al supporto che poi la compagnia stessa può dare per cercare di migliorare proprio l'azione di consulenza e quindi di soddisfazione dei bisogni proprio del cliente stesso lato la torrete commerciale devo dire che l'impostazione nostra sempre stata quella anche grazie poi anche all'avvento della delle direttive sulla distribuzione di impostare fin da subito il tema proprio sul non tanto sulla vendita ma proprio sulla consulenza quindi abbandonare cercare di abbandonare quello che il paradigma prodotto per passare proprio focalizzarsi sul cliente e sui suoi sui suoi bisogni questo ha fatto parte è stato anche il claim del nostro piano ultimo piano strategico che completeremo il prossimo anno quindi lifetime partner che per noi ha significato molto dal punto di vista distributivo perché si è intrecciato con i momenti che ho anche citato prima ma soprattutto si è intrecciato sul vero senso del perché il nostro contributo come assicuratori è importante proprio letto in termini di consulenza intanto abbiamo un range di gamma e di possibilità di bisogni che è veramente vasto oggi all'interno delle nostre reti commerciali parlare dell'assicuratore per abbinarlo sempre all'auto almeno per il mondo di generali è fuorviante e fuorviante perché stiamo parlando di ben altri settori dalla salute alla protezione siamo i primi operatori in italia per quello che riguarda per esempio l'inabilità di lunga durata dall'eltc perché che per noi è stato un'interno importante filone di sviluppo di incontro di una domanda che è presente ma non era ancora ben ben focalizzata piuttosto che adesso per esempio tutte quelle che sono gli eventi naturali dove il tema della protezione sia dell'attività delle imprese ma anche delle proprietà dei cittadini dei singoli è una tematica importante oggi fare l'assicuratore vuol dire occuparsi di tutto questo e non lo puoi fare se non hai dietro una base di conoscenza solida e non sai anche qua come portare valore come intercettare questi bisogni che sono anche oggi quasi di domanda dopo anche la salute per esempio anche su tutti i bisogni che ci sono sono presenti e se c'è una figura che sintetizza un po tutte queste di questi bisogni proprio la figura del consulente assicurativo quindi della gente delle sue strutture che oggi sono lì proprio per cercare di dare una risposta in questi campi farlo con il tema della consulenza farlo attraverso un apprendimento importante l'investimento che stiamo facendo abbiamo fatto ma soprattutto stiamo facendo su proprio sulle competenze è veramente rilevante cambia completamente l'approccio ovviamente va supportato con anche l'aspetto di strumenti di strumenti digitali che servono proprio a cercare a creare un diagnostico proprio che vada a rispondere a quelle che sono le esigenze e i bisogni manifestati specifiche quindi insomma competenze da una parte strumenti dall'altra per creare una figura un partner come l'ha definito un lifetime partner e ecco io ho cerchiato in rosso diciamo così un termine che avete utilizzato in questa nostra chiacchierata ovvero il termine di ecosistema perché proprio ecco in un contesto con sempre più dati quindi sempre più complesso ma anche sempre più competitivo è utile creare invece un clima abbiamo detto di collaborazione tra la compagnia assicurativa e il consulente soprattutto finalizzato alla condivisione dei dati un qualcosa di non così naturale perché sappiamo insomma che c'è una tendenza ciascuno a conservare a tenere i propri dati e non a condividerli in questo invece Salesforce aiuta ecco promuove questa cultura della collaborazione come dottoressa arcese sì diciamo che per noi vedere il cliente a 360 gradi diventa importante a noi piace pensare che un cliente un nostro cliente una nostra compagnia di assicurazione cliente possa davvero sfruttare al meglio le nostre piattaforme riuscendo a vedere il cliente nella tua interezza qual è diciamo la potere qual è la forza di tutto ciò è dare davvero un empowerment alle agenzie agli agenti riuscire a creare un trust proprio per questo scambio dei dati perché il valore poi che si crea in questa relazione diventa importante sia per la gente stesso ma anche per la compagnia nella relazione finale col proprio cliente quindi cos'è l'empowerment verso verso la gente è dare alla gente una fornire alla gente un'esperienza veramente unica in modo tale che possa liberarsi dagli impegni diciamo a poco valore aggiunto per riuscire a vendere meglio e a poter aumentare la capacità di vendita facendo upsell e cross sell con i nostri sistemi quindi tutto quello che il lavoro diciamo di back office tutto quello che il lavoro diciamo tipicamente poco rilevante per il business della compagnia viene lasciato ai nostri sistemi che operano nella direzione di dare alla gente tutti gli strumenti necessari per essere più vicino al proprio cliente per poter trasmettere queste informazioni alla compagnia come lo fa con una serie di modelli una serie di diciamo strumenti aggiuntivi come quelle del marketing o marketing che riesce a essere o centralizzato oppure addirittura personalizzato per ogni agenzia o agente modo da poter dare la possibilità di poter operare modalità interattiva con il cliente finale un contact center che possa essere a disposizione della compagnia dell'agente specifico tutti questi strumenti facilitano la vita dell'agente stesso e quindi questo rapporto si consolida e si crea una sorta di hub condiviso per una gestione sempre più efficiente ed efficace delle informazioni sul life cycle del cliente sugli eventi della vita su quello che è la mappa relazionale che ha il cliente perché spesso volentieri il cliente viene visto con un nucleo unico ma non nella sua interessa di relazioni che ha e questo è un valore che se mettiamo a disposizione sulla piattaforma fa crescere immediatamente il value e il valore quindi generale che si crea intorno a questa situazione. Certo quindi possiamo definirvi dei facilitatori. Facilitatori ci piace questo. Ti piace un termine che ci piace. Bene dobbiamo affrontare ancora un terzo macro tema lo definisco così proprio per dare la dimensione della grandezza e dell'importanza ovvero quello della evoluzione dell'intelligenza artificiale sappiamo che ormai l'intelligenza artificiale sta invadendo e utilizzo questo termine ormai tutti i settori personali e lavorativi e naturalmente questo interessa anche il mondo assicurativo che lo abbiamo detto per tanti anni è stato definito come un settore un po' paludato ecco che non riusciva ad avere un'evoluzione rapida stare al passo magari con altri settori più attivi tutto questo è cambiato non solo grazie al covid e a causa del covid ma anche grazie appunto alle innovazioni dell'intelligenza artificiale che sicuramente pone tanti vantaggi in termini naturalmente di precisione di efficienza di rapidità ma pone anche dei rischi e mi riferisco proprio alla protezione dei dati ne abbiamo parlato alla trasparenza dei processi ecco quindi io vorrei un commento prima dal dottor Odone poi dalla dottoressa Arcese su questo veramente tema gigantesco che riguarda l'intelligenza artificiale e il futuro delle assicurazioni intanto ho detto bene è un tema gigantesco da questo punto di vista abbiamo messo le mani avanti perché tocca tantissimi aspetti proprio della vita reale nostra ma poi anche del fare business anche in campo assicurativo intanto dico che parto dalla protezione dei dati ecco perché mi sembra un tema molto rilevante molto sensibile fatto cenno prima di come siamo tutti quanti attenti al nostro al tema della protezione dei nostri dati personali e questo deve deve essere ed è un aspetto fondamentale imprescindibile la cura e la protezione del dato da parte proprio della compagnia di assicurazioni in generale abbiamo processi di sicurezza enormi da questo punto di vista importanti abbiamo proprio come obiettivo quello di proteggere la privacy dei nostri clienti e quindi come tale questo per noi è un fatto quasi etico mi permetterei di dire in termini di protezione del dato detto questo poi la nostra attività è fatta su dati si base l'attività assicurativa è fatta di dati e credere l'intelligenza artificiale in questo senso può dare un grande contributo proprio nel migliorare l'utilizzo di questi di questi dati intanto nei prodotti perché abbiamo cominciato anche qua da sviluppare prodotti parametrici in tanti ambiti dall'agricoltura anche quelli che sono oggi gli eventi gli eventi naturali proprio perché ci permettono una precisione maggiore quindi ci permettono di poter essere più precisi anche nella personalizzazione della soluzione anche nella liquidazione per esempio del dato stesso e questo è un filone che si è aperto e sono convinto che nei prossimi anni galoperà dal punto di vista dell'apprendimento anche da parte della compagnia nel come migliorare appunto questa solo l'utilizzo di questa intelligenza artificiale poi c'è il tema del marketing della relazione dove anche qua un aspetto importante di sviluppo è sicuramente legato a come possono essere interpretati i dati per migliorare la relazione la relazione con il cliente c'è un fattore fondamentale che dal mio punto di vista tutto questo per come lo interpretiamo e lo vogliamo interpretare noi sarà sicuramente uno dei punti importanti anche nei prossimi anni all'interno dei nostri piani strategici e che essendo oggi noi in italia focalizzati sulla nostra rete commerciale il tema dell'intelligenza artificiale deve essere qualcosa che deve andare a supporto in aiuto della della relazione che per noi rimane ed è fondamentale quella umana con il nostro cliente attraverso appunto la nostra rete commerciale porto in aiuto ma non in sostituzione perché diciamo che ecco il fattore umano sicuramente direi che naturalmente in italia il tema della relazione è ancora fortunatamente molto molto importante un mercato molto intermediato centrale la figura degli agenti e delle loro strutture di presidio il territorio è ancora molto importante lo vediamo anche se cominciamo a paragonare come per esempio il mondo bancario ha dovuto alleggerire un po le sue presenze territoriali questo può aver creato anche qualche disagio dal punto di vista della prossimità del servizio devo dire che oggi invece noi ancora come industria ma come soprattutto come generali per noi la prossimità è ancora un valore importante e questo si fa con le persone i nostri agenti i nostri consulenti certo ecco ritorniamo a questo punto centrale cioè come gestire questa combinazione di fattore umano e fattore digitale con il plus il rafforzamento dell'intelligenza artificiale dottore sarcese l'intelligenza artificiale si sono d'accordo con dottor lodone deve essere a supporto e deve riuscire a creare maggiore efficienza operativa cioè quindi abbiamo detto già prima cioè la gente deve lavorare su quello che è il suo business primario quello della vendita tutto quello che invece sono attività accessorie possono invece essere gestite da strumenti di intelligenza artificiale che in questo momento sono pronti per per questo uso e una cosa che voglio ricordare che 6 forza lavora sull'intelligenza artificiale già dal 2016 studiando con laboratori come poter diciamo mettere a terra questi sistemi in un ambiente che già nasce in modalità totalmente cloud 6 forza nasce nel 99 primo sas della storia così rilevante per cui per cui la sicurezza della sicurezza del dato diciamo no è embedded è veramente cruciale per creare ci appartiene ci appartiene ci appartiene e quindi abbiamo continuato su questa scia in realtà siamo partiti da un concetto di intelligenza artificiale predittiva oggi siamo passati a quella generativa su quella generativa ovviamente il concetto della sicurezza è ancora più importante e prelevante perché insomma è quello che poi ci mette a disposizione strumenti per il supporto alle persone che lavorano nella compagnia e allora come come ci siamo relazionati con questo concetto della intelligenza generativa con la creazione di un layer di trust quindi noi vogliamo dare ai clienti questa possibilità di riuscire a lavorare in modalità sicura perché gli strumenti di intelligenza artificiale ce ne sono tanti ovviamente ognuno è in grado di adottare qualsiasi strumento è chiaro che il concetto del trust e del dato sicuro deve essere ipotizzato immaginato analizzato up front altrimenti si rischia di arrivare troppo tardi quando a cose fatte poi diciamo il dato potrebbe essere invece finito chissà dove questo layer serve appunto appositamente per garantire al minimo tre cose fondamentali uno è il concetto di data privacy quindi con un mascheramento come si chiama data mask del dato cliente o dei dati sensibili in modo che non possano essere gestiti se non da chi deve farlo un concetto di zero retention quindi non c'è una manutenzione del dato da parte dei nostri sistemi se non ad uso esclusivo del cliente che deve fare un utilizzo più giusto più corretto è un concetto anche di filtro su quello che è il livello di tossicità quello che poi genera le famose allucinazioni quello che oggi viene chiamato allucination ecco queste tre questi tre elementi fanno della nostra piattaforma una piattaforma sicura che consente quindi al compagnia assicurativa ma a questo punto a qualsiasi diciamo industria di mercato di poter operare in una modalità che è quella più corretta verso il business e verso il mondo della compliance che possiamo diciamo dire di no questo è il nostro concetto principale chiaramente bene noi ci avviamo verso il termine di questa tavola rotonda ma prima di chiudere io faccio sempre fare ai miei ospiti una sorta di esercizio linguistico e non vi spaventate nel senso che torno ecco alla all'inizio di questa tavola rotonda dove abbiamo definito l'assicurazione del futuro sempre più digitale sempre più personalizzata questi sono i termini che abbiamo sottolineato noi io vorrei sapere ecco se lato vostro ci sono degli aggettivi dei sostantivi che vorrete aggiungere per descrivere l'assicurazione del futuro dottor oddone ma io uso quello che per noi è stato un modo di spiegare come fare della tecnologia un punto di forza ovvero il tema noi siamo vicini alle persone alle imprese con il calore di una stretta di mano e l'immediatezza del digitale io penso che questo possa essere una buona sintesi per noi di come fare sintesi tra queste due elementi l'umano e il mondo digitale dei dati per essere ancora importanti nella vita delle persone delle nostre imprese che la sintesi della dottoressa arcese qual è abbastanza simile a quella del dottor oddone cioè il figital quello che viene chiamato figital quindi un'esperienza che si combina per quello che è il rapporto umano ma con strumenti tecnologici talmente importanti che a un certo punto si fa fatica a capire dove la differenza viene ha utilizzato anche una parola inglese che consente appunto in un termine solo di mettere insieme esatto tanti concetti quindi proprio anche la proprietà linguistica io ringrazio davvero gli ospiti di questa tavola rotonda il dottor marco donne chief marketing and distribution officer di general italia e la dottoressa anna maria arcese regional vice president salesforce italia capo del settore banking ed insurance grazie ancora per essere stati con noi grazie a voi a tutti i telespettatori bene si chiude qui questa puntata di new insurance non alla programmazione di le fonti tv che continua quindi mi raccomando restate con noi